eccoci qui ragazzi con l'ultima lettura che mi sono fatto in treno mentre andavo a roma allora avevo già gradito molto questa edizione di tom king di human target e mi sono detto visto che tutto quello che tocca a tom king diventa oro forse però erano belle anche le storie precedenti e la panini ha avuto il buon gusto di fare della dc library anche quest'altra raccolta di storie sempre incentrata su human target andiamo a conoscerlo meglio perché un personaggio che neanche io conoscevo bene praticamente nel mondo dei superiore della dc quindi batman superman flash questi personaggi qui esce fuori questo personaggio questo change che praticamente non ha superpoteri di una sorta di agente segreto uno 007 che per lavoro si sostituisce al bersaglio delle minacce ovvero tu lo chiami per lo ha soldi per ricoprire il tuo posto quando subisci delle minacce e quindi sai che verrà ucciso e lui ti risolve tutto quanto cambiando completamente la sua faccia e diventando la persona che lo ha ingaggiato ma lui entra proprio nel dettaglio c'è il senso non è solo un cambio estetico anche caratterialmente lui c'è questa sorta di abilità perché quella è una skill non è un superpotere che gli permette appunto di interpretare perfettamente il suo bersaglio e la cosa figa è che entra talmente tanto dentro questa recita diciamo questa questa situazione che a volte gli restano dentro e quindi deve tipo disintossicarsi in questa edizione qui change da chance da non perdere abbiamo il il nostro il nostro protagonista bellissimo devo dire questa storia veramente geniale che interprete verrà interpretato da qualcun altro ovvero un'altra persona farà l'human target per il nostro human target e quindi diventa una sorta di giallo thriller di intreccio dove non sappiamo chi è chi e questo cambiare personaggio ogni volta incomincia a dargli dei problemi psicologici anche abbastanza gravi e quindi la storia si basa tutto quanto su questo giro di menzogne su chi è chi e perché sta facendo quello che sta facendo mentre nel contesto abbiamo altri attentati ad altre persone ragazzi una storia veramente veramente bella non è il classico americano con le tutine infatti non c'è nessuno con i superpoteri è più che altro una spy story si possiamo definire assolutamente la spy story e vi dirò anche di più secondo me in futuro ci faranno anche una serie tv perché ha delle trame veramente intricate e soprattutto mi ha stupito ne leggo tanti di questi di questi fumetti e vedo anche molte serie spy e questa qui mi ha veramente veramente subito metterò comunque ho messo già in realtà alcune immagini di quest'opera proprio per farvi capire anche il disegno perché signori non fermatevi solamente a un tipo di fumetto ma spaziate perché l'importante è leggere perché ci sono veramente delle opere degli spunti che vi possono aprire completamente la mente spero che vi sia piaciuto questo video e ci vediamo naturalmente sempre sul canale torre di maghi funeteria ciao ragazzi